E' stato inaugurato il nuovo centro per la logistica dell'azienda cartaria Celtex ad Alto Passo, azienda specializzata in prodotti di carta tissue e tessuto che conta quattro sedi in Europa. Nelle immagini la visita al nuovo stabilimento che ospita l'Hub Logistico Europeo, a cui ha partecipato anche il presidente della regione toscana, che ai vertici dell'azienda ha ricordato il supporto regionale alle aziende come Celtex impegnate a riqualificare aree urbane e introdurre innovazioni tecnologiche nel manifatturiero, nell'innovazione sta la chiave del futuro. Oggi per rimanere in Italia e affrontare il mercato con i mercati esteri, con le aziende estere, dobbiamo investire in tecnologia, formare le persone. Questo è un po' l'obiettivo che ha Celtex ed è l'unica maniera che ha per rimanere in Italia e continuare a combattere i mercati stranieri. A dare impulso all'azienda sono stati anche gli investimenti nella sostenibilità ambientale, come nel caso della turbina finanziata con i fondi strutturali europei, capace di ridurre dell'80% le emissioni di CO2. E poi c'è la formazione continua del personale. Non solo formiamo i nostri dipendenti, ma cerchiamo di formare anche i dipendenti dei nostri clienti. Quindi c'è una sala formazione qui che lavora tutte le settimane, sempre piena, adatta, fatta apposta per questo scopo, per la formazione. Grazie a tutti.